buongiorno ragazzi e benvenuti in questo terzo tutorial sulla trottaria come quelli precedenti si tratta di un tutorial base giusto per dare alcune nozioni a chi si avvicina a questa spettacolare e divertente disciplina naturalmente daremo delle nozioni base e poi si potrà approfondire sul campo con l'esperienza intanto però per avvicinarsi a questa pesca spero che possano essere utili anche questi miei video e oggi parleremo in particolare di crank dopo aver fatto un video il primo tutorial su una panoramica generale sulla pesca trottaria il secondo dedicato agli spoon in questo terzo andremo a parlare dei famigerati crank queste hardbait che sono una delle componenti principali e più divertenti della pesca a trottaria diciamo quelle quella la pesca con le hardbait è forse la più stimolante perché si si pratica in generale quando il pesce comincia a diventare più apatico più difficile e quindi con gli spoon non si ha più una resa che si aveva quando il pesce era più fresco più attivo e quindi bisogna andare a stimolarlo con altre soluzioni e allora iniziamo a parlare di crank come usare i crank e quali crank ci sono e qui ogni volta dobbiamo capire bene prima di tutto qual è la situazione del lago in che lago ci troviamo se un lago grande piccolo come vediamo le trotte nell'acqua del lago se le vediamo bollare in superficie se capiamo che sono più sul fondo e poi altre peculiarità potrebbero essere il colore dell'acqua se più trasparente oppure più opaca e la luce del sole o meno quindi molte differenze che possono aiutare a capire quale quale esca utilizzare come dicevamo utilizziamo i crank quando capiamo che con gli spoon è già più difficile ottenere delle catture questo in genere in una gara però l'utilizzo dei crank può essere fatto però anche per divertirsi e per diciamo sfidare se stessi per capire come far abboccare meglio il pesce quindi diamo delle indicazioni base potrebbero esserci anche soluzioni diverse da quelle che starò a raccontare io però in genere io mi comporto in questo modo in queste situazioni iniziamo con il caso in cui le trote si trovano in superficie a galla magari anche al centro del lago quindi non proprio vicinissime e le vediamo anche bollare in questa situazione può essere utile utilizzare il mitico riola questo popper che è un crank appunto che galleggia e lanciato in acqua può determinare anche un attacco improvviso appena il crank tocca l'acqua da parte della trota poi si può recuperare con delle piccole gerchettate alternate da delle pause in modo da fare sembrare un piccolo insetto che si muove a scatti sull'acqua creando delle delle vibrazioni mi sono molto divertito ad utilizzare questo popper e mi ha dato veramente ottimi ottimi risultati quindi quando notiamo questo comportamento delle trote una soluzione può essere appunto questa questo è il mitico riola come dicevamo di casa valken vi ne sono diversi anche di altre di altre marche alcuni che utilizzo io in alternativa sono ad esempio anche questi deca della giacal il timon che sono anche dei cranks che nuotano molto in superficie e con delle vibrazioni che possono nella strato superficiale proprio a pelo d'acqua stimolare le trote che sono che sono a galla ha avuto anche ottimi risultati con questi uno particolare vi faccio vedere anche questo di casa norris con questa palettina che dà delle vibrazioni questo viene chiamato fukadama il mio amico aurelio lo usa moltissimo è molto divertente e questi sono degli esempi ma vi sono anche altri tipi che potete trovare di crank da poter usare appunto negli strati molto superficiali e essere anche abbastanza lanciabili perché il riola è un po perché io riesco a lanciare anche molto molto distanti grazie alla compattezza della 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 sua forma altro tipo di situazione quando le trote sono sempre a galla magari anche più vicino arriva le vediamo quindi una pesca quasi a vista e però sono molto diffidenti in situazioni come queste vado a cercare anche dei crank più piccoli in modo da stimolare ancora di più la curiosità del del pesce in magari in fase dire di meno rispetto ad un crank il più grande crank di questo tipo che mi posso consigliare sono ad esempio il rice 22 della di casa norris veramente piccolo e molto stimolante per le trote in superficie infatti un crack molto superficiale mi ha dato ottimi risultati un altro esempio potrebbe essere anche questo piccolo cranchettino il pozz di casa i v line e anche questo è un questo è a mono amo molto bello molto un crank anch'esso galleggiante e poi fantastici sono i crank di casa rob come il piccolo barbie andremo a cercare in questo caso quello floating che in superficie ha un movimento molto molto catturante e ancora per casa valkane abbiamo il kuga nano e anche questo crank può dare degli ottimi risultati tra l'altro è uno dei miei preferiti e mi permette di sondare anche degli strati d'acqua più 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 vasti e ha una maggiore lanciabilità infatti è un leggermente più grande riesco a lanciarlo anche più lontano un altro crank sempre di casa norris questa volta è il rice 33 che è un po più grande qui diciamo stiamo andando già su cranchi dimensioni più elevate tornando a quelli che ho fatto vedere inizialmente questi microcrank non possono essere lanciati lontanissimo però se le trote sono in superficie e abbastanza vicine possono veramente dare una grande una grande resa cambiamo scenario ci rendiamo conto che le trote non sono più in superficie ma potrebbero essere a un metro sotto la superficie quindi dobbiamo cercare dei crank che possano sondare gli strati intermedi dell'acqua per cercare il pesce tra questi il mio preferito in assoluto è il kuga il mitico valken kuga questo è un crank appunto per pesca intermedia e diciamo se mi rendo conto che con questo crank non ho risultati scendo ancora più in profondità con un altro tipo di kuga sinking questo lo riconosciamo sinking perché ha gli occhi rossi questo è un modo per riconoscere al volo il crank che scenderà a una profondità maggiore quindi con questi due crank e quando le trote non sono più in superficie posso fare una ricerca e andare a vedere un po se riusciamo a trovarli in altri strati quindi medi oppure più profondi oltre al kuga possiamo andare a vedere anche altre marche per andare a ricercare le trote negli stati medi e profondi ad esempio qui abbiamo il bellissimo mamma barbie di casa roblur un altro che vi faccio vedere è questo bellissimo crank che ha dato sempre ottimi risultati si tratta dell'air blue di casa lucky craft ed è anch'esso un crank che mi permette di andare a ricercare il pesce negli strati medi intermedi del dell'acqua del lago e anche a una buona lanciabilità infatti è un crank appunto anche di dimensioni intermedie quindi mi permette di raggiungere distanze discrete ancora degli esempi uno molto storico è il pupa di casa norris un crank recuperato può scendere anche molto in profondità e se diciamo lasciato in stop ritorna più in superficie e quindi possiamo anche con questo scendere sotto ma anche risalendo stimolare i pesci che si trovano sulla linea d'acqua un altro ancora che vi posso far vedere è questo crank che è un mocha di casa rodio bellissimo crank e questo è un ss quindi scende abbastanza in profondità e mi permette appunto di stimolare le trote che sono leggermente più sul fondo un ultimo crank di questa famiglia è l'amcra di casa antem una casa che produce anche il mitico dona come spoon e questo è anch'esso un bel crank che somiglia a una specie di camola e recuperata quando le trote sono molto distanti e quindi mi serve un crank di dimensioni più generose per riuscire a raggiungerle non può mancare il mitico orizard abbiamo fatto un video anche su questo crank e abbiamo visto che ha una grande lanciabilità mi permette di raggiungere grandi distanze e allo stesso tempo di stimolare molto il pesce uno appena uscito di recente è l'ase anche questo è leggermente più piccolo dell'orizard ma comunque è molto grazie alla sua forma ci consente di essere estremamente lanciabile e di dare degli ottimi risultati bellissimo cambiamo ancora situazione abbiamo uno scenario in cui le trote possono essere sia a un'alternativa che si può provare è quella di usare il mitico idram nelle due versioni l'idram normale e l'idram nano come sapete l'idram è uno dei miei crank preferiti grazie a questo crank una volta sono riusciti addirittura a vincere una gara usando negli ultimi tre turni solamente questo era quello di un colore più bianco e ha fatto proprio la differenza perché le trote non rispondevano ad altre esche ma con un recupero molto lento e con degli stop and go abbiamo avuto veramente dei risultati fantastici poi dipende sempre dalle situazioni dal pesce eccetera ma appunto il bello di questa pesca è proprio questo bisogna provare sperimentare e l'idram è veramente sempre molto divertente facile slamare perché è un pesco molto grande però dà tante soddisfazioni l'idram nano è leggermente più piccolo a tre sezioni invece di quattro ma può dare anch'esso ottimi risultati con un buon movimento in acqua anch'esso può essere recuperato lentamente oppure con un recupero a stop and go anche qui gli idram ne sono di due tipi quelli floating e quelli sinking e questo ci permette appunto di sondare diversi strati d'acqua se con tutti questi crank non abbiamo avuto dei risultati un'altra soluzione molto importante che a volte se scelta subito può veramente fare la differenza anche rispetto a chi sta pescando ancora con i crank è il mitico jerk quindi passiamo con descrivere questi piccoli pesci foraggio che riescono a stimolare veramente in modo molto elevato il pesce più più difficile con recuperi a base appunto di gerchettate per creare appunto dal basso verso l'alto un movimento attrattivo per il pesce e per utilizzarlo andremo utilizzare delle canne un pochino più più rigide che ci permettono di avere un contatto diretto con l'esca e quindi di gestire meglio il il movimento questi che vi facciamo vedere sono di casa valken lo shuan e lo shuan nano che due molto molto belli questo è un pochino più grande e questo è un pochino più più piccolo e sono veramente delle esche eccezionali a volte in certe situazioni se non si ha un jerk non si riesce a fare una cattura quindi è bene sempre averne qualcuno nella propria cassetta per finire quando ci rendiamo conto che per il freddo o altri motivi le trote stazionano praticamente attaccate al fondo allora bisogna trovare delle altre soluzioni per andare a stimolarle e una ottima è quella di usare dei vive o dei crank come questi che sono fantastici di casa valken che vi facciamo vedere questo è il mitico shun ride come vedete è un crank che si aggancia sulla superficie dorsale è piombato fa sì che l'esca scenda sul sul fondo e ci permette con dei movimenti o di piccoli salti o dei movimenti di recupero lento di stimolare le trote che si trovano appunto sul sul fondale un'alternativa allo shun ride che c'è in dimensioni normale e anche shun ride nano quindi più piccolo questa è una fantastica esca di casa valken un'alternativa a questa sempre di casa valken è il lee warm anch'esso ha una piombatura davanti che permette all'esca di scendere sul fondo può essere agganciato appunto sul dorso e emette ancora più vibrazioni quindi in situazioni in cui servono forti vibrazioni questo piccolo crank può dare degli ottimi risultati un'alternativa sempre per insediare le trote sul fondo può essere un metal vibe come questo recentissimo valkenon di casa valken questo è un metal vibe lamo come vedete si trova sul 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 retro a due agganci uno frontale e uno sul dorso che ci permettono sia di fare un recupero lineare sia di far saltellare l'esca sul fondo e anche questa è un'esca fantastica che è bene sempre avere in cassetta perché può salvare diverse situazioni quindi finito questa panoramica su molti dei miei crank non ci resta che andare a provarli in pesca e vi consigliamo se non ne avete se avete solo spoon di provare a cominciare a sperimentare anche i crank perché vedrete degli ottimi risultati spero che questo video vi sia tornato utile e ci rivedremo al prossimo tutorial ciao a tutti